Il mio pensiero, visto l'anno e visto i tempi assolutamente divisivi che stiamo vivendo in questo momento internazionale, vuole andare a tutte quelle donne che non sono sul fronte ma stanno cercando di mantenere viva e serena la propria famiglia, scappando purtroppo da climi di guerra come quelli che stiamo vedendo e che non avremmo mai voluto vedere nel 2022 alle porte di Occidente. E ci ricordo un po' quello che fecero i nostri nonni e soprattutto le nostre nonne, quando i nostri nonni erano al fronte e le donne erano a casa a mantenere la famiglia. Quindi il mio pensiero vuole andare proprio a queste donne che stanno fuggendo da questi climi di terrore. Noi donne occidentali siamo qua pronte ad accogliervi e a lottare con voi per riportare la pace.